Juventus Porto 3 a 2 per la Juve, ma la Juve non riesce a conquistarsi il posto ai quarti di finale che dire, dico che la Juventus deve sonnerare assolutamente Pirlo e che deve sonnerare Pirlo perché comunque non è riuscito a dare uno schema di gioco sta facendo un campionato vergognoso con una squadra che a livello qualitativo è la prima d'Italia e potenzialmente potrebbe essere una delle prime d'Europa e con tutto ciò come risultato in Italia fa schifo in Europa proprio la Juve non è neanche vista in cartolina fondamentalmente ho finito poco fa di parlare con alcuni colleghi youtuber se mi hanno tutti quanti confermato che la Juve ha fatto veramente schifo in questa partita è riuscito a farsi battere in casa dalla squadra a livello qualitativo inferiore e che giocavano loro oltretutto in 10 fondamentalmente per quasi tutta la partita hanno giocato in 10 e spulso uno del porto e quindi la Juve godeva anche di un vantaggio numerico oltre che qualitativo e non è riuscita a batterle fondamentalmente che dire dopo tutte queste cose secondo me dal mio punto di vista se la Juve non esonerà Pirlo rischia pure di compromettere anche il campionato stesso da buon neutrale io lo dico da buon neutrale naturalmente poveri tifosi gioventini che stanno soffrendo come Cani in questo momento li posso capire ma del resto finché non viene esonerato Pirlo la Juve continuerà sempre a dare il peggio di sé e non riuscirà mai mai e poi mai ad uscire da questa situazione ovvero che qual è questa situazione? la situazione è che è bloccata da un allenatore che non ha uno schema di gioco che non c'ha né arte né parte come allenatore naturalmente non come giocatore e che purtroppo se non ha uno schema di gioco non c'ha un allenatore che comunque insomma riesca non solo a motivarli ma anche a dare nuovi schemi di gioco efficaci naturalmente non può riuscire a dare il meglio anche se c'ha la creme della creme in campo fondamentalmente l'ultimo allenatore della Juventus secondo me che aveva un gran talento era giusto Antonio Conte era giusto Conte fondamentalmente dopo Conte gli allenatori che sono venuti dopo anche se per qualcuno Allegri era ancora meglio di Conte ma secondo me l'ultimo allenatore bravo era Conte dopo Conte la Juve non è più riuscita a trovare un allenatore che gli potesse dare quello schema di gioco che veramente gli serviva per fare veramente non solo un ottimo campionato benché l'avesse sempre vinto anche con Allegri e con Sarri ma anche un ottimo schema di gioco un buon gioco e avere buone speranze concrete per vincere anche in Europa fondamentalmente anche se molti dicono ha fatto due finali con Allegri sì ma le due finali con Allegri lasciano molto il tempo che trovano hanno lasciato il tempo lasciano il tempo che trovano fondamentalmente quindi comunque secondo me l'ultimo allenatore bravo che la Juventus ha avuto è stato giusto Conte dopo Conte non ha trovato più nessun allenatore e a livello qualitativo come gioco lo si è visto dopo Conte fondamentalmente ha sempre fatto ogni anno più schifo a livello a livello di gioco e ha sempre fatto brutte figure di merda in Europa e Pirlo è l'ennesimo allenatore senza schema di gioco che fa figure di merda in Italia ma soprattutto in Europa fondamentalmente perché se tu vinci 8, 9, 10 scudetti di fila questo è il nono questo è il nono anno se vince anche quest'anno se vince anche quest'anno dovrebbe essere il nono decimo scudetto sì o nono decimo scudetto consecutivo ma in Europa non riesce a vincere neanche una sola Champions vuol dire che insomma c'è qualcosa che non va fondamentalmente e quindi non niente questa Juve ha questa maledizione della Champions fondamentalmente ha questa maledizione della Champions che secondo me è molto dettata vi ripeto da allenatori che non sono mai riusciti a tirare fuori il meglio di sé fondamentalmente tranne pochissimi questo è quanto ragazzi una partita da quello che mi hanno detto molto deludente pessima dove comunque ha fatto schifo la Juventus proprio voti che mi hanno detto proprio da 4-5 proprio ha fatto veramente schifo non l'ho potuta vedere ma sarei veramente stato curioso di vederla guarda questa partita che dire ragazzi io ho detto la mia fondamentalmente fatemi sapere sui commenti cosa ne pensate condividete questo video iscrivetevi al canale e noi ci sentiamo prossimamente per i prossimi video e fatemi sapere insomma cosa ne pensate anche voi se Pirlo deve essere esonerato per me deve essere esonerato e devono prendere un altro allenatore poi ditemi la vostra insomma ok ciao a tutti ragazzi ciao a tutti